Siamo in campagna elettorale perché fra pochi mesi si ritorna a votare e il suo nome ritorna come tra i papabili candidati a sindaco. Io su questo, ma l'ho detto già in occasione della festa dell'unità, io fra qualche mese compirò 62 anni. 30 anni fa cominciai a esercitare il mestiere di architetto e ho messo a disposizione, ho avuto l'opportunità di profondere energie e competenze in questo settore. I miei due figli hanno più o meno la stessa età che io avevo allora, ma le loro energie, le loro competenze le esercitano a 800 chilometri di distanza. E quindi dico questo perché quello che mi ha spinto all'epoca a candidarmi come sindaco era dare un'opportunità ai coetanei dei miei figli, ai ragazzi di oggi, di pensare di non dover lasciare la loro città. Quindi questo discorso delle coalizioni, delle liste civiche, dicevo i ribelli dei Cinque Stelle, i Power Rangers, dei Capitan Salvini, se servono unicamente a dare spazio a chi campa di politica o che ambisce a campare di politica senza avere questo obiettivo fondamentale. Stiamo parlando del nulla. Io ho condiviso i valori e le battaglie del Partito Democratico perché così, in un momento così faticoso per il Partito Democratico, proprio perché ritengo che all'interno di questo partito ci siano uomini e donne e l'esperienza di tanti sindaci della provincia che abbiamo ascoltato nel corso della festa dell'unità hanno evidenziato, hanno valori e passione che mettono a disposizione dei loro concittadini. Ecco, con questo animo bisognerà affrontare la prossima campagna elettorale, non con le composizioni e le alchimie della politica. Noi dobbiamo dare una risposta alle future generazioni. Noi dobbiamo avere una visione, ritorniamo al discorso della visione, affinché i giovani possano scegliere se restare a Foggia, avere una famiglia e lavorare, oppure essere costretti ad andare fuori. Io credo che si debba parlare di una scelta e non dell'obbligo di andare fuori da questa città. Un giro lungo per dire che è a disposizione? Beh, questo io l'ho già affermato. Io sono a disposizione del Partito Democratico, così come tanti iscritti uomini e donne che hanno competenze, che hanno passione e che hanno la voglia di mettersi a disposizione per l'interesse collettivo, non per accrescere e o consolidare le posizioni politiche fino ad oggi raggiunte.